3, 2, 1, no, 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 basta, taglio, taglio, allora 3, 2, 1, go, 1, no, ragazzi, ragazzi, oggi siamo, sono ritornata qui con un nuovissimo video questo video si tratta di un video che non faccio da tantissimo sul canale ovvero il video all acquisti che ho fatto in questo weekend, molto figo però non l'ho fatto tutto in un giorno, ma un po' due giorni, tipo tre giorni, una cosa del genere vabbè, comunque li ho fatti, sono molto carini allora ragazzi, io vi voglio precisare una bellissima cosa giù nei commenti alcuni scrivono, eh ma tu lo fai solo per fantarti, e così, e così allora, specifichiamo una cosa, so che magari quelli saranno iater e tutto quanto, e tutto così, no? però, per chi vuole sapere, o comunque, ragazzi, io, visto che ormai siamo tutta un'unica famiglia insieme quindi non vi posso nascondere più niente ormai cioè, voglio condividere queste cose che ho comprato con voi, semplicemente vi dirò anche i prezzi, giusto se volete dare un'occhiata nel negozio e magari la volete prendere se c'è la vostra taglia e magari vi sembra un prezzo che si può accettare comunque tipo, cioè io ho preso tutte cose che comunque i prezzi si possono accettare per i negozi almeno, cioè penso di sì però, ora vi faccio vedere perché c'è un pezzo fortissimo due pezzi fortissimi stupendi e quindi vai, allora ragazzi ho comprato da Tally Whale se si dice così Alcott e H&M quindi sì, sono negozi che più o meno stanno un po' dappertutto anche se Tally Whale ha aperto da poco a Napoli dove abito io in quella parte dove abito io, però comunque è aperto e quindi sono tanto contenta e quindi sono entrata, è troppo figo poi H&M sta un po' dappertutto e anche Alcott quindi dai, possiamo iniziare partiamo da una cosa che ho comprato da H&M da H&M ho fatto due acquisti in diversi giorni però comunque ho comprato due volte da H&M in diversi giorni allora, questa è la busta, molto figa a me piace tanto la busta di H&M è troppo figa la prima volta che c'è acquisto però mi ha sorpreso e anche i prezzi comunque c'è Massimo costa 19€ o di più quindi di H&M 10€ non trovo niente o 15€ però vabbè, questa è troppo bella e l'ho presa perché volevo comprarmi una felpa felpina, maglietta rosa ma rosa acceso e l'ho presa perché è stato il mio primo acquisto questo, cioè il primo acquisto di questo haul allora, praticamente è questa troppo troppo bella c'era anche corta però senza cappuccio io la volevo col cappuccio corta non la volevo perché comunque è inverno anche se l'ho presa con una corta cioè vabbè però comunque questo colore io lo voglio cioè volevo una felpa così e basta quindi corta poi non aveva il cappuccio no, 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 no quindi no allora, l'ho presa fucsia fucsia accesissimo che dalla telecamera sembra tipo salmone ma non lo è ve lo assicuro ma è stupenda cioè bellissima non so se si nota il colore no, sembra salmone però è veramente molto molto acceso come colore e questo lo posso abbinare un po' dappertutto quindi sì ho preso tutte cose chiare e molte sono rosa perché ragazzi sì il mio armadio è tutto nero cioè c'è un sacco di roba nera quindi non posso più vestire nero ma in questi colori anche se vuole inverno ci sentirebbe il nero però io non lo voglio quindi questa è una sto parlando anche troppo è di questa maglia è una XS e l'ho pagata 20 euro 19,99 20 euro quindi molto figa mi piace un sacco e non ho indossato ancora niente perché ci sono ancora i cartellini vicino perché vi volevo far vedere tutto ben posizionato bello sistemato allora poi no, questa ve la lascio dopo facciamo questa qui Alcott ho comprato sempre una cosina in ogni busta c'è sempre una sola cosa cioè yeah allora praticamente da Alcott che è stata fatta per tutto da me ho comprato no non mi piace allora ho comprato una cosa grigia sì ragazzi perché per me il grigio è chiaro rispetto all'armadio che tengo tutto nero quindi grigia allora ora vi faccio vedere subito aspettate è questa questa felpina cioè magliettina così molto carina mi piace veramente un sacchissimo e mi piacciono specialmente tanto le maniche perché quando le mettete si aprono un poco e quindi sono troppo cioè troppo bella e poi questa dovrebbe andare tipo con le spalle così io l'ho provata in camerino mi piace un sacco un sacco e bella ragazzi appunto vi ricordo che queste cose tutte quante un po' alla volta le vedrete tutte indossate su di me e mi potrete dire come sto come non sto quindi va bene questa è una S e l'ho pagata 12,99 euro quindi Alcott questa è 13 euro alla fine ed è poco perché sono dei prezzi che comunque si possono accettare non è che costano 5 euro però comunque sono prezzi accessibili si può dire non lo so è molto molto carina aspetta ve l'ho fatta vedere bene così si vede molto bella e ok vado questi capelli ovvio non si vogliono controllare grazie i capelli allora poi teniamo una cosa molto bella che ho preso sempre no che ho preso da Tally Whale questa si ho preso due cose da Tally Whale però in un solo giorno e mi hanno dato due buste quindi questa è una e dopo vi farò vedere l'altra perché quello è il pezzo forte allora praticamente con quella cosa che ho preso c'era lo sconto che sui 5 euro si prendevi una felpa e quindi io l'ho presa ho presa anche se 5 euro non mi cambia la vita ma comunque già l'avevo vista all'inizio questa felpa che era bellissima e quindi ho detto vabbè perché ce l'aveva chiesto proprio la ragazza quindi noi abbiamo detto via allora questa è la felpa in questione è rossa la mia prima cosa rossa cioè io non ho mai messo cose rosse addosso almeno credo no non ricordo di averle messe ed è un rosso veramente molto acceso che dalla telecamera si vede benissimo però forse un pochettino più scura no forse uguale col cappuccio così e le maniche sono classiche teleway l'ho pagata è un xs e l'ho pagata 16 euro 15 euro e 99 comunque quello ed è molto molto carina molto bella proprio questa sì appunto qui a me piace un sacco teleway perché è la prima volta che ci entro forse una volta ci sono entrata ma giusto per dare un'occhiata per vedere cosa c'era non ho comprato niente questa volta sì mi piace un sacco pure i manichini queste cose qua hanno i dettagli tutti in oro oro sgoldo quindi bellissimo poi vi faccio vedere una cosa troppo bella sempre comprata da H&M questo è un altro gioco ed è da 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 questo vedete questo allora questo io stavo comprando non mi ricordo cosa un felpone tipo pelliccioso così no però lo stavo comprando tipo grigio però era troppo lungo per come volevo io poi ho visto questa che era pellicciosissima morbidissima e carinissima con la scritta original sopra e non so se si vede la pelliccia sì comunque è troppo carino già me lo sono visto con un pantalone nero con le borche è una cosa molto figa quindi va bene wow e le maniche sono stupende cioè voi lo mettete e sono stupende le maniche questo ve lo dico subito questo è un S e l'ho pagata 20 euro però sinceramente io ho provato tipo XS e S e erano uguali quindi ho detto vabbè prendo S almeno cioè se magari qualcosa cambia ho preso S tanto costa uguale prendo S che mi va bene e quindi ho preso S molto molto figa poi infine il pezzo forte è no aspetta le faccio vedere prima questo il pezzo forte che ho comprato da Tiger perché ovviamente in un haul che si rispetti Tiger ci sta sempre e ero entrata per prendere dei plaid che ho trovato però ve li faccio vedere perché per la casa e ho trovato le cuffiette ad unicorno sono bellissime queste non ho resistito le ho aperte un po' infatti si vede che sono un po' tipo tutto così però le ho rimesse a posto una volta aperte volevo vedere l'unicorno com'era e basta non le ho proprio usate e sono queste qui pagate 4 euro io le ho trovate vicino alla cassa però penso che le troviate un po' in tutte le parti cioè boh non lo so poi il pezzo forte che è questo qui sono taratatan 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 indovinate sempre telly whale telly whale indovinate non ve le voglio fare ancora vedere no no si vedono aspettate ok prese allora ragazzi sono un 38 e le ho pagate 30 euro si sono delle favolose scarpe rosa sono bellissime cioè sono stupende assomigliano tipo non mi ricordo il nome le 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 volevo comprare tutto quanto però sinceramente non mi piacevano come calzavano cioè al mio piede non mi piacevano però sono stupende quelle scarpe non togliamo niente sono troppo belle però devo essere sincera sono contenta che non le ho comprate perché io sinceramente sono più il tipo di roba sportiva cose del genere no e quindi comprare scarpe da 170 euro mi sembra troppo perché non è comunque una scarpa sportiva ma è una scarpa un po' più così è tipo uno stivaletto e quindi 30 euro ci sta anche bene perché comunque mi piace mi piace un sacco penso di metterla un bel po' perché è molto molto bella però appunto è un prezzo molto buono secondo me e poi le volevo rosa in realtà non è che le volevo rosa che sono entrata ho visto queste cose queste scarpette qui molto carine rosa ho detto babbo me le fai provare ti prego sono troppo belle e papà me le ha fatte provare me le ha comprate come vedete e sono stupende wow sono fenomenali sono troppo belle guardate stivaletto troppo fighe e hanno questi buchini per mettere lacci oro e sono troppo belle questa pelle nera il tacchetto qua non lo so come si chiama il tacchetto molto molto basso io non lo prendevo se l'altro comunque qui nero e appunto c'è il palce ok quindi molto molto carine e anche queste le vedrete indossate su instagram chiaccia la marghe giulia kawai real chiaccia la marghe no marghe giulia kawai tretino basso official vi lascio qua il nome e qua vi lascio il nome di facebook ovvero marghe giulia kawai real marghe giulia real marghe giulia kawai real vabbè ve lo lascio qui e qui e comunque il link è in descrizione lo stesso e quindi e quindi questi erano il pezzo forte però sinceramente io dalla telecamera mi sono un po' schifo sembrava bruttissime dalla telecamera sembrava un salmone schifoso ma non è vero per niente sono stra belle sono stra rosa rosa acceso no però un rosa molto intenso e carino anzi così si vedono un po' meglio vabbè comunque è molto bello e 3 2 no 3 2 1 quindi ragazzi questo è il video spero che sia piaciuto a me è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghejulia kawai 3 su facebook marghejulia kawai real sul secondo canale magic tv su musical di chiaccia la marghejulia real e sul su nostro canale marghejulia kawaii se volete le maglie andate su www.marghejulia kawaii .it se volete queste maglie o le cover o le tazze di tantissimi colori andate su www.marghejulia kawaii .it ovviamente su google certo per chi non lo sappia ma io penso che lo sappiano tutti che vita ok ciao se il video vi è piaciuto lasciate like se il video non vi è piaciuto lasciate like iscrivetevi condividete tutto quanto se non vi è piaciuto o le tazze